Cascina Fornace è un edificio che sta tra Incirano e Palazzolo, sull'antica Comasinella, angolo via Domenzini. È già presente nel Catasto Teresiano, anche se in forma diversa, nel Catasto Teresiano del 1722. E come a quei tempi ovviamente era una cascina isolata, circondata dai campi, mentre oggi è circondata da abitazioni, e la stessa cascina è stata cambiata. Ovviamente non ci sono più le stalle, ma ci sono box. Però chi la osserva vede ancora il segno di una cascina agricola. La particolarità di questa cascina è l'immaginetta della Madonna al suo interno, che non abbiamo potuto filmare.